E' un mistero fitto quello che riguarda questa donna, cosa è successo a Marta. Così raccontavamo venerdì scorso la scomparsa di una donna a Milano, Marta Di Nardo, 60 anni. Mancava da casa dal 4 ottobre, le ricerche erano partite il 17 ottobre dopo la segnalazione fatta dal figlio con cui la donna non aveva contatti frequenti. La cosa che allarma è ciò che dichiarano i vicini di casa che sono convinti che qualcuno le abbia fatto del male. Mentre seguiamo in diretta gli sviluppi delle indagini, gli inquirenti si recano nel condominio dove vive Marta al quarto piano per cercare indizi e conferme. Ci sono i sopralloghi dei carabinieri ma anche la sezione scientifica che sono arrivati qua verso l'una e mezza questa mattina. Poi sono arrivati anche i vigili del fuoco che se ne sono andati. A casa di Marta i carabinieri trovano un certificato medico intestato ad un uomo, Domenico Levrieri. Così scoprono che Marta aveva cominciato a frequentare dal mese di settembre un vicino che abita nella stessa palazzina. Perché un suo certificato medico si trova in casa della donna? Si scopre allora che l'uomo ha una coppia delle chiavi dell'appartamento di Marta e sarebbe stato visto entrare e uscire da quella casa diverse volte. Perché lui ha già questa chiave da Marta? E mi è molto strano. Venerdì scorso gli inquirenti si presentano a casa delle levrieri. L'uomo sembra tranquillo, li fa entrare. Durante la perquisizione, mentre lui aspetta seduto sulle scale, gli fanno anche portare un caffè dal vicino bar lo stesso dove va di solito con Marta. Entrambi infatti sono affetti da ludopatia. Lei gioca a Gratevinci, a macchinetti. Nel frattempo i carabinieri si accorgono del forte odore che proviene dall'interno della casa delle levrieri e scoprono il cadavere di Marta. E proprio lì, all'interno di un soppalco, il corpo viene portato via a notte fonda. L'uomo viene fermato e condotto in caserma. Gli viene offerto un piatto di pasta con le zucchine. Subito dopo crolla e confessa l'omicidio. Bastano poche parole. E' stato lui ad uccidere Marta Di Nardo. Non volevo ucciderla, mi dispiace. Sono le poche parole con le quali Domenico Livrieri, il 46enne fermato per l'omicidio di Marta Di Nardo, ha sostanzialmente ammesso di essere stato lui ad uccidere la vicina. Lo ha fatto per soldi, voleva impossessarsi del bancomat di Marta. Il cadavere della donna è stato ritrovato proprio nell'abitazione dell'uomo. Tutto sarebbe successo tra il 4 e il 5 ottobre. Livrieri ha ammesso di averla uccisa colpendola con una coltellata al collo e di avere tagliato in due il corpo all'altezza della vita, con un coltello da cucina per poi avvolgerlo in una coperta e nasconderlo nel proprio appartamento, in un soppalco. Il 46enne ha tentato anche di fuggire. Il giorno prima della denuncia di scomparsa del figlio di Marta, Domenico Livrieri infatti, è andato all'aeroporto di Malpensa a bordo di un taxi. Non potendo pagare il tassista, gli aveva dato il suo telefonino, un pegno per la corsa non pagata. E così, quando i carabinieri hanno cercato di contattarlo, al telefono ha risposto il tassista, che ha spiegato loro tutta la storia. Domenico Livrieri, per chi indaga, ha tentato di allontanarsi dal territorio nazionale, ma non è riuscito, probabilmente per la mancanza di denaro. Ma come sono arrivati gli inquirenti subito a lui? Cosa l'ha incastrato? La sera del 17 ottobre, i vigili del fuoco entrano dalla finestra del condominio per sincerarsi che Marta non si è morta in casa. Non la trovano. Ma è evidente che la luce è stata dimenticata accesa da qualcuno che è entrato nell'abitazione. Poi, nell'appartamento, sono stati ritrovati i resti di un pasto e una ricetta medica intestata al 46enne. Una ricetta medica, un certificato, è messo dopo la scomparsa della donna. Lui, quando è stato sentito come persona informata sui fatti, ha detto invece di non essere mai entrato in quella casa, di non essere in possesso delle chiavi di Marta. Ma quello è stato l'inizio di una lunga serie di bugie. Sì, perché Livrieri sarebbe stato notato più volte, a partire dal 9 ottobre, salire e scendere le scale del palazzo, portando delle valigie dall'appartamento di Marta, di cui possedeva le chiavi. Una l'ha portata in casa, l'altra l'ha portata vicino all'ingresso. La portinaia ha aperto quest'ultima insieme a un altro inquilino e ha trovato dei vestiti da donna. Erano di Marta. In quell'abitazione Livrieri non solo è entrato quando ha ucciso Marta, ma anche nei giorni a seguire. Era nella casa della vittima, infatti, che l'uomo dormiva per sfuggire all'odore del corpo, nascosto in casa sua e diventato ormai insopportabile.